Ciao a tutti, da ritornati in questo nuovo video. Oggi non vi saluterò e non unboxerò e non canterò, ma questo qui è uno speciale per i 100.000 iscritti. Grazie mille a tutti! Vi mando un bacione a tutti i 100.000. Grande, grande! E di 100.000 oggi saluterò 5 iscritti, dalla borsa degli iscritti ovviamente. Oggi saluto Sofia Castiglia, Lucky89, mescoliamo un po', Linda Giorgi, Pierdj06, e poi per ultimo Simone Farina. E per questa occasione, molto importante, ho preparato una torta. Ovviamente per una piccola rappresentanza di 100.000 iscritti, se no ci vorrebbe una torta grossa come un campo da calcio. Però io intanto ho questa qui. Guardate che bella! C'è scritto Sofia Del Baldo YouTube 100.000 iscritti. Bene, adesso andiamo a assaggiare la torta e vedremo se è buona. Innanzitutto togliamo tutta la decorazione. Ah, c'è tutta la panna, aiuto! Voilà! Togliamo tutto. La mettiamo sul piatto, così almeno la togliamo da qui. E stiamo a tagliarla. Mi dispiace anche tagliarla. Voilà! Facciamo cinque pezzettini. Prendiamo un pezzettino. Voilà! Sentiamo se è buona allora. Mmm, buona! Se la volete assaggiare anche voi, preparo 100.000 pezzettini e dopo ve li spedisco tutti a casa. Però non pretendete un pezzo grande. Con la mia buona torta vi saluto. Vi ringrazio ancora per i 100.000 iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Penso! Iscriviti al fedelo!